Un cittadino ucraino di 34 anni, Basil Yenatyuk, braccianti agricolo, è stato ucciso la notte scorsa con alcuni colpi di pistola all'interno della sua abitazione ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. L'agguato è avvenuto dopo la mezzanotte in località Fiume Morto, nelle campagne del piccolo comune del subappennino Dauno. Ferita al collo e ad una spalla anche la madre della vittima, una donna di 60 anni, ricoverata d'urgenza presso gli ospedali riuniti di Foggia e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sull'episodio sono affidate ai carabinieri che hanno già affermato il presunto autore del delitto, un 34enne del posto convivente della madre della vittima. Gli inquirenti stanno indagando sulla sua vita privata. Il sospettato è stato sottoposto ad un lungo interrogatorio davanti al magistrato. L'uomo ha sparato con una pistola calibro 22 legalmente detenuta. Non ha ancora accertato il movente, ma secondo le prime indiscrezioni appare concreta l'ipotesi dell'omicidio originato da dissidi di natura familiare. Sembra infatti che tra la vittima ed il presunto killer ci fossero da tempo dei gravi contrasti.